La salute del pianeta e dei suoi abitanti merita le nostre migliori energie. E' questo il filo conduttore di WEACT, il manifesto della sostenibilità lanciato da Chiesi, insieme al bilancio di sostenibilità che evidenzi un nuovo approccio strategico, l'integrazione della sostenibilità nel business come driver di sviluppo condiviso. Alla fine del 2017 il team Chiesi ha rinnovato l'impegno verso la sostenibilità sociale e ambientale, lanciando un piano strategico di sostenibilità aziendale che fissa 17 nuovi obiettivi di sostenibilità. Si stanno identificando le azioni prioritarie che aiuteranno Chiesi a creare valore sociale ed insieme economico. E' questa, secondo Chiesi, la responsabilità sociale dell'impresa. La responsabilità che noi abbiamo non solamente nel fare, ma nel comunicare quello che facciamo. Effettivamente il mondo delle patologie rare è molto variegato, molto vario, è pieno di diversità e secondo me il concetto della diversità è il concetto principale. Sono indicazioni diverse che richiedono modalità di trattamento diverse. Chiesi, in buona sostanza, vuole diventare una B Corp, una Benefit Corporation, per essere parte attiva del movimento di aziende certificate che usa il business come forza positiva. Chiesi punta a creare valore per tutti gli stakeholder attraverso innovazione e imprenditorialità. Il nuovo quartier generale, che sta nascendo alle porte di Parma, nella stessa zona del centro ricerche inaugurato nel 2011, è la conferma di questa strategia. La posa della prima pietra, nel marzo di quest'anno, porterà nel 2020 al completamento di nuovi spazi per 540 persone. Il nuovo headquarters Chiesi si svilupperà su una superficie di 46.300 metri quadrati e ospiterà tutti gli uffici direzionali di quello che è oggi un gruppo multinazionale a capitale completamente italiano, orientata alla ricerca e presente con proprie filiali in 27 paesi del mondo. Il progetto si svilupperà secondo tre driver principali, rappresentati da una nuova visione del luogo di lavoro, organizzati in spazi condivisi e articolati secondo le attività svolte, con l'obiettivo di favorire e ottimizzare il lavoro di team, una valorizzazione e fruizione degli spazi collettivi per favorire la socialità e il benessere delle persone, e infine una particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.